Sono Sascha De Franceschi, direttore tecnico della Adeo Group. Oggi abbiamo fatto un primo evento dedicato esclusivamente al settore audio a Roma. Il punto più importante di questo evento è la nostra nuova presentazione della politica commerciale di approccio di mercato in Italia. Considerando che noi oggi distribuiamo tra 25 e 30 marchi suddivisi in diversi settori come audio, video e controllo, abbiamo bisogno di focalizzare molto di più ogni singola divisione dell'azienda e abbiamo deciso di fare un ulteriore supporto sia agli agenti, i nostri agenti di vendita, che ai nostri clienti che sono rivenditori, system integrator e aziende di rental, di inserire praticamente sei figure professionali nuove e dividere le aziende in sei divisioni, in sostanza divisione video, divisione audio, divisione schermi, divisione rental, divisione home audio video che si dedica al mercato residenziale e della divisione control 4 che seguono in sostanza sistemi di controllo. Questo ci permetterà di seguire molto meglio questo mercato e focalizzarsi molto bene a sviluppare ognuna di queste sei divisioni. Poi abbiamo presentato diversi prodotti dei marchi dedicati del mondo audio e anche un'anteprima di Symmetric che nel mese di marzo verrà annunciata ufficialmente.